a video top con grande piacere diamo il benvenuto a marco augusto ciao ciao paolo sono molto contento essere qua con te con voi in italia essendo in germania bello avere il legame verso verso il sud questa sorta di ponte tecnologico si diceva della possibilità di azzerare le distanze così facendo non ci sono problemi e sai anche in questo tempo con il corona abbiamo fatto dei concerti streaming è stata una cosa interessante perché c'era proprio ho fatto il concerto da qui c'erano spettatori anche dall'italia anche dalla russia infine come hai detto già prima tu ci sono sempre questi due lati di medaglie è sempre qualcosa che si può anche succhiare di buono assolutamente sì abbiamo come costituzione anche la possibilità come sempre accade nelle tragedie nelle situazioni difficili trovare anche un lato positivo e noi siamo qui per chiacchierare ahimè di qualcosa che dobbiamo assolutamente tramutare in positivo cioè il nostro contributo importante a questa terra che è tremante come tu l'hai definita si è tremante ed è allo stesso momento anche tenera la mia visione della della nostra madre terra è proprio una una che 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 c'è che ci soffre su questo vedendoci con le nostre con le nostre cose che facciamo a lei e quindi ci voleva questo brano volevo voglia di scrivere una canzone che parla di questo di di come è fatta questa madre terra con tutte le sue bellezze è la tenerezza e quanto ha importanza che c'è di 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 vederlo questo regalo e di di cambiare proprio il modo nostro di vivere per mantenere perfezione e voglia di felicità bambini e di mio amore che l'umanità intrapolata da sempre la verità le mie foreste le piante bestie oh 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 per raccontare questo nel video appunto c'è anche come dicevamo prima anche qui una contraposizione no tra quello che è il disastro che stiamo combinando ma anche una forza speranza per il futuro sì è vero paolo era proprio quello che volevamo fare vedere prima visto che ci siamo ci sono stato dato sono state date dei videoclip di greenpeace e dell'organizzazione greenpeace che fanno proprio vedere in modo molto drammatico le spiagge piene di plastica tutti gli alberi le foreste che vengono sbattute giù per fare che ne so cosa e dall'altra parte poi durante il video dove appare proprio questa madre terra questo duetto io con la madre terra alla fine si vede proprio lei in persona come come è come ho detto già prima con il piene d'amore per noi e poi facciamo vedere anche tante tante cose tanti clip bellissimi per far capire per aprire i cuori per far capire quanto bello questo pianeta la meraviglia in effetti siamo tutti pronti a scandalizzarci magari alle immagini che ci propongono i telegiornali perché i disastri il petrolio che viene che fuoriuscito da una petroliera nel mare e le terre che bruciano e l'amazzonia quanta poi dopo usciamo di caso prendiamo una carta e la lanciamo per strada ma quindi questo è anche importante dai piccoli gesti che sono proprio nelle nostre possibilità poter fare evitiamo di vedere quello scempio nei mari di tutta quella plastica che inevitabilmente lanciata dall'uomo e non certo ma beh certo ma sai la cosa tragica forse è proprio quella che non credo che noi devastiamo il mondo per cattiveria non ci rendiamo conto come dici tu nelle piccole cose tipo non lo so comprare dei pomodori in inverno che vengono portati con la nave dall'africa verso l'italia queste cose piccole non è che lo facciamo apposta credo 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 che siamo infine abbiamo tutti un buon cuore diciamolo così e nessuno vuole vuole distruggere questa bellezza attorno però non non c'è questa attenzione bravo ci vuole un po più di attenzione secondo me vedere davvero ho bisogno davvero questo articolo devo davvero prendere la macchina per imbucare la lette non vogliono anche importante questo video non volevamo accusare volevo dire ecco guarda tu devi cambiare io sono già molto più avanzato di te no vogliamo solo aprire gli occhi come dire guardate guardate cosa ci è stato dato in effetti come dicevamo appunto è facile scandalizzarsi di fronte dei disastri ma è altrettanto difficile delle volte essere consapevoli che anche proprio su cose che pensiamo naturali dobbiamo fare attenzione per poter dare il nostro contributo importante il contributo invece al brano l'ha dato anche un artista sempre anche lei tedesca se non vado errato anche lei tedesca si julia bless tantissimo mi piace tantissimo come col suo modo lei anche attrice cantante vive in spagna quindi era proprio già una bella collaborazione un intreccio meraviglioso era bellissimo perché il mio produttore che ha prodotto questa canzone era in grecia quindi abbiamo fatto le decisioni in germania e in spagna e poi le abbiamo mandato in grecia una canzone europea assolutamente e sì bravissima lei perché come forse hai già sentito ha una voce molto con tanta dolcezza dentro ed è questo che io non pensavo una madre terra furiosa che dici cambiate finalmente il modo di vivere era più un personaggio un po' triste un po' melancolico ma pieno d'amore quindi sono contento abbiamo scelto lei questo brano terra tremante fa da apripista al nuovo tuo album si va da apripista al mio nuovo album che è uscito fine settembre l'ho chiamato anche per amore alla vita perché come magari ti sei già accorto io la vita la amo molto soprattutto c'è questo grande messaggio che infine in ogni canzone mia che ho fatto negli ultimi anni c'è dentro sempre molta speranza sai non vorrei chiudere i miei occhi verso il brutto è importante vedere le cose che vanno male però sinceramente ogni giorno trovo tantissime tantissime cose che vale proprio la pena di esserci quindi è la ragione per quale l'ho chiamato per amore alla vita è un bel messaggio al quale tutti quanti non possiamo che essere d'accordo non si trova persona al mondo che non ha mai la vita tornerai in italia arriverai da noi prima o poi? ma molto molto volentieri guarda ho preso già la grande voglia quando abbiamo fatto nel 19 un paio di concerti attorno al lago maggiore che era bellissimo era la prima volta era bellissima perché c'è proprio un scambio di cultura sai gli italiani hanno chiesto ma in Germania com'è come fare la musica poi abbiamo fatto anche qualche canzone tedesca loro erano molto interessati e viceversa e quindi sì sì assolutamente cioè vediamo adesso attorno a Milano fare qualche concerto prossimo anno vorrei in ogni caso tornare ottimo poi allora ci vediamo anche qui in studio e non abbiamo dai sarebbe bellissimo Paolo è simpaticissimo e sarebbe molto bello di incontrare ti ringrazio molto altrettanto a te un abbraccio e in bocca al lupo per tutti un forte abbraccio grazie Crepi Crepi non si dice più credo al lupo vabbè sai cosa voglio dire in bocca al lupo anche a voi un forte abbraccione verso l'Italia carissimo ciao Marco ciao 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 quanto bella che sei quanto amore che a noi ci dai terra tremante sei grande prima o poi e che avviene ed anch'io ci sarò e tre faremo festa immensa festa non tremare più terra amante sei l'unica tu oh 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 Grazie a tutti.